ciao a tutti amici di natura wild siamo qua con cecco con telma a dire il vero si è girato tutta la giornata si è girato tutta la giornata e non si era trovato assolutamente nulla siamo in montagna al faggio però mentre tornavamo alla macchina guardate cosa può succedere mai a rendersi momento di respirazione 1 2 3 4 e il bambino 5 e nulla ne abbiamo mai mollare ragazzi e mai mollare mai eccolo va ecco ora devo chiudere un secondo amici se no telma ce li mangia